Espinale! 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 Espinale è rimasto a Monza, oggi è arrivato anche Borgodello, si è partiti con un 4-1, questo Monza vuole andare in Serie B. Questo Monza è fatto da altri 26 giocatori di cui tutti validi, siamo molto contenti, io sono rimasto senza remore, e così come tutti i miei compagni credo che metteranno l'anima e li ringrazio perché come vedete si è un gruppo affiatato e giocare qui è bello. È stato eccezionale questi ragazzi qua, dobbiamo veramente cercare di fargli un monumento perché sono attaccati a questa squadra che ci fa mesperare anche da parte nostra per fare quei sacrifici che ormai da due anni stiamo portando avanti un discorso di investimento e di programmazione. I tifosi mi sono piaciuti più dall'anno scorso perché li vedo più fiduciosi, la squadra l'ho detto è molto più forte e qui gioco sulla mia persona perché io potrei dire sì non stiamo bene, ma io li alleno tutti i giorni e so che se me ne mancano 3 o 4 non le ho altri.